Collegarsi utilizzando il browser alla centrale A22 ed effettuare il login Cliccare su Eventi Avvicinare la tessera da abilitare al lettore Cliccare su Aggiorna Il sistema segnala un accesso negato ed ha la possibilità di abilitare quella carta Cliccare su Aggiungi A questo punto comparirà la finestra di registrazione della carta Nel campo Etichetta digitare l'identificativo della carta Cliccare su Aggiungi Cliccare su Assegna Cliccare sul più per aggiungere un nuovo utente Digitare il nome utente Digitare cognome utente Cliccare su Salva Scorrere in basso la pagina e cliccare su Livelli di accesso Cliccare su Assegna Selezionare Access Level Always Cliccare su Assegna Provare la tessera appena abilitata sul lettore Il LED verde indica accesso consentito Grazie per la fiducia che riponete nei confronti della nostra azienda Grazie per la fiducia Grazie per la fiducia